Buone notizie riguardanti la situazione coronavirus ad Agropoli. Infatti, 4 delle 6 persone risultate positive al Covid legati al caso dello scorso 24 luglio del giovane agropolese contagiato, in seguito ai tamponi di verifica dell'ASL, sono stati dichiarati guariti dal virus. La situazione, che inizialmente sembrava particolarmente preoccupante in città, fece scalpore, ma alla fine si è rivelata circoscritta ed è stata gestita in modo ottimale, nonostante il grande numero di tamponi disposti dal Dipartimento di Prevenzione, vicino al centinaio. Dei restanti due casi, uno di questi è in attesa di sottoporsi all'ultimo tampone di verifica, dopo che il primo è risultato negativo al Covid, mentre l'altro cittadino al momento è ancora positivo al coronavirus. Per Agropoli, quindi, ci sono buoni risvolti. Dopo la paura di una seconda esperienza per la città, simile a quella del culmine dell'emergenza, i contagi di poco meno di un mese fa sembravano una doccia fredda per Agropoli, che ora è ripartito e si appresta a ritornare Covid-free.